Sono state assegnate nella giornata di ieri le maglie del campione regionale ciclismo su strada, centro sportivo italiano 2022, soddisfazione in casa Eco Evolution Bike. La 31enne tripaldese Annalisa Albanese del team Irpino è ufficialmente la nuova campionista regionale strada, CSI nella categoria Woman Master 1. Una grandissima soddisfazione per l'atleta di casa nostra, che da una semplice passione familiare con il duro lavoro negli anni ha raggiunto numerosi successi e riconoscimenti, divenendo elemento di punta della squadra della cittadina del sabato, che negli ultimi periodi ha fatto parlare di sé per gli ottimi punteggi ottenuti. Soprattutto nella Mercogliano Montevergine, organizzata dalla Proloco Locale, che ha visto Annalisa primeggiare sin dalle pedalate iniziali. Dove appunto Annalisa Albanese ha entusiasmato i numerosi appassionati presenti, disputando una prova brillante fin dal primo chilometro, percorrendo i 15 chilometri dell'ascesa al santuario, in 56 e 46, alla media di 15-85 chilometri all'ora, che gli ha permesso di conquistare il secondo gradino del podio classifica assoluta Woman, e arrivando così prima nella categoria di appartenenza Woman 1. Il presidente regionale del centro sportivo italiano Enrico Pellino ha consegnato ad Annalisa la maglia e la medaglia nella sede di Circol. Il presidente regionale del centro sportivo italiano Enrico Pellino ha consegnato ad Annalisa la maglia e la medaglia nella sede di Circol.